Lazio-Napoli termina 1-2 la partita in questione finita proprio alle ore 22.48 di oggi 27 febbraio Lazio fa soltanto un gol, il Napoli ne fa ben due, non basta il gol allo Stadio Olimpico di Roma per portare la vittoria nelle tasche della Lazio il gol della Lazio arriva all'ottantottesimo del secondo tempo a firma di Petro, in segne ne fa uno al sessantaduesimo del secondo tempo e un'altra al novantattattoresimo a firma di Fabian Ruiz ma tutti e due molto belli riescono a portare la vittoria nel Napoli Lazio ripeto gioca molto bene soprattutto nel secondo tempo dove risulta essere gradevole e piacevole ma nel primo non riesce a fare neanche un gol gol invece che Napoli riesce a fare nel secondo tempo a margine della parte finale della partita al novantattattresimo a firma di Fabian Ruiz è proprio quel gol che serve a Napoli per avere la vittoria in pugno comprimenti tutto qua a Napoli, il video termina qua a Lazio pur giocando bene e pure impegnandosi però non ottiene la vittoria primo tempo spompo da parte di entrambe le formazioni calcistiche qualche piccolo sprasso di vivacità di verbi in più ma poi nulla di fatto per Lazio invece di Napoli e resta il novantattattresimo arriva alla vittoria con Fabian Ruiz che la butta dentro Dario André è tutto, il narrato italiano al prossimo video